uno svasso sul fondale che pesca ecco che riemerge sta riemergendo eccolo la lo vediamo è riemerso la sotto i rami siamo al lago bene con trattino abbiamo appena visto svasso maggiore si è immerso verso fondale a cercare i pesciolini per catturarli e mangiarli eccolo che sta arrivando questo è il verso che fa lo svasso maggiore 2 la coppia amica sempre lago benaco trattino ancora la coppia di svasso maschio e femmina stanno iniziando a costruire il nido la coppia di svasso maschio e femmina siamo nel periodo di amore vedete di sotto il ramo hanno iniziato a costruire il nido continuano a pescare alghe sul fondale per portarle a costruire il nido eccolo uno che si avvicina ed eccolo che si è immerso eccolo qua sul fondale eccolo ancora sul fondale come nuota veloce ed ecco che è rimerso vicino alla sua femmina era il maschio avete visto che velocità chuta